La tutela dei minori è principale ed è questo il motivo del convegno che stiamo organizzando insieme in collaborazione con l'UNICEF, che è un partner ovviamente importantissimo per quello che riguarda la tutela dei diritti bambini, ma è un momento soprattutto di confronto, cioè inutile parlarci a volte dentro casa, bisogna avere confronto anche con altre realtà, in questo caso con le realtà europee. Quindi vogliamo vedere come gli altri paesi, altri giornalisti, l'altra informazione si occupa dei minori quando sono coinvolti in fatti di cronaca. Quindi credo che sia un confronto utile soprattutto per arrivare ad una carta europea sulla tutela dei minori, cosa che l'Ordine Nazionale dei giornalisti aveva già iniziato a fare con una risoluzione che comunque è già all'attenzione da anni del Parlamento europeo. C'è soddisfazione perché è la prima volta che avviene un confronto in Italia con giornalisti stranieri, in questo caso ci sono giornalisti che sono corrispondenti in Italia dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Olanda, da Bulgaria e Albania. Quindi credo che il confronto serva per arricchire e per trovare anche una formula possibilmente unitaria nell'ambito dell'informazione.